A Milano diversi bar hanno riaperto, ma il clima non è sereno. Ci sono troppe normative e troppe responsabilità nei confronti del cliente, per cui ci si trova a fare i controllori senza averne le autorità. Senza contare che ci sono regole assolutamente opinabili. È questo che sottolinea tra gli altri Eric Viola del Pinch di Milano. Si stanno comportando, direi, magistralmente, sono meravigliosi. Non si avvicinano, non si assembrano, non si aderiscono mai le regole e nel caso lo facessero per sbaglio, appena li li vanno a notare, subito si mettono a posto.